Candidare Roma, sede dell'Agenzia Europea per la ricerca avanzata in campo biomedico e per la gestione delle future emergenze sanitarie, lo chiede sia la Regione che il Campidoglio e già si pensa all'ex ospedale Forlanini per ospitarla. Ad annunciare l'istituzione di questo organismo è stata la Presidente della Commissione Europea von der Leyen a Bruxelles per un'industria alla capitale a tutte le carte regola per esserne la sede. Questa struttura importantissima nel campo della ricerca biomedica e come punto per quanto riguarda le emergenze sanitarie che si dovessero verificare nel futuro, Roma e Lazio hanno tutti i requisiti. L'Italia è la prima in Europa per esporto sulla farmaceutica e Lazio la Regione è leader in questo settore oltre ad avere centri d'eccellenza come lo Spallanzani e aziende all'avanguardia per lo studio del vaccino anti-Covid. Ospitare l'Agenzia Europea per la ricerca biomedica significa portare innovazione, sviluppo e occupazione nella nostra regione ha detto un'industria, insomma un'occasione da non lasciarci sfuggire. Un'occasione assolutamente da non lasciarci sfuggire. Il governo si deve impegnare insieme alla regione, insieme al Comune di Roma e insieme alle forze economiche e sociali a far sì che Roma effettivamente diventi il candidato per ospitare questo centro di ricerca così importante.